Buondi ragazzi, bentornati, buon venerdì a tutti quanti voi, intanto ci tenevo a ringraziarvi per la grande presenza di ieri con Albanese, siamo stati veramente dei grandi, oltre mille persone in live, voi che l'avete bombardato di domande e mi ha fatto estremamente piacere, quindi ringrazio di nuovo Giovanni per la sua presenza ma ringrazio voi per la grande partecipazione. Da ieri però sono derivati degli argomenti molto interessanti che meritano un approfondimento in questo video matutino, andiamo a parlare un attimino della campagna abbonamenti perché ci sono dei numeri interessanti legati alla campagna abbonamenti della Juventus dello Stadium, siamo tornati a dei numeri importanti e quindi c'è un'analisi che va fatta anche là e poi parliamo di mercato. Prima di iniziare ovviamente ci tengo al vostro sostegno, in che modo ragazzi potete sostenermi, non vi sto chiedendo mica denaro, vi chiedo dei gesti assolutamente gratuiti, basta un like, basta l'iscrizione al canale e il vostro commento a fine video, la grande partecipazione aiuta tanto, per cui mi raccomando. Allora, andiamo a vedere i dati ragazzi della campagna abbonamenti della Juventus che sta portando veramente a dei risultati sorprendenti, inaspettati per certi versi, perché ragazzi l'anno scorso veramente la Juventus ha riaperto la campagna abbonamenti anche a campionati in corso, approfittando di un buon momento per cercare di massimizzare le vendite e per avere moneta fresca, perché vedete gli abbonamenti consentono alla Juventus di incassare nell'immediato, anno dopo anno, denaro liquido, che è fondamentale, liquidità, sono milioni e milioni di liquidità. Capitolo abbonamenti, un po' di numeri. I rinnovi, c'è stato il 90% dei rinnovi quest'anno, dopo la passata stagione, è un notevole aumento rispetto ragazzi al 70% dell'anno scorso. Cioè l'estate scorsa nella campagna abbonamenti hanno rinnovato il 70%, poi sono stati riacquistati dei nuovi abbonamenti, ci sono stati dei nuovi abbonati, il tasso di fidelizzazione è stato elevatissimo, quindi andiamo vicini al 90%. La Formula Star, che è l'ultima, che consente agli abbonati di andare a vedere la Champions League, almeno le partite del girone, è stata la scelta del 41% degli abbonati, quindi c'è tanto entusiasmo anche attorno alla UEFA Champions League e al ritorno, tant'è vero che si è scelto di prendere quel pacchetto, oltre che per le partite di Champions, anche per qualche partita della Coppa Italia, non solo, c'è anche ragazzi un aspetto legato al numero delle riserve, che è comunque importante. Quindi a livello di vendita abbiamo già superato di gran lunga il 23-24, la stagione 23-24, al secondo giorno le curve sono già sold out al primo anello, il secondo viene lasciato sgombro per chi può acquistare i biglietti. Quindi risultati ragazzi straordinari. Che cosa ci dicono e ci indicano questi risultati? Che il nuovo corso ha ridato entusiasmo, nuova voglia, e che c'è voglia di vedere una Juve vincente, e che questo nuovo corso, le premesse almeno di questo nuovo corso, sono migliori a quelle dell'anno scorso. Quindi già l'anno scorso in realtà c'era quella puzza di naftaline di stantio, che meritava un ricambio, la Juventus, l'ambiente, eccetera. Questo ricambio non c'è stato per tante ragioni, non condivise da me, sia chiaro, ne abbiamo preso atto, ma i risultati della nuova campagna abbonamenti ragazzi sono stati ottimi, ottimi, ottimi. Mi piace questa storia di tre tipi, Luigi di abbonamento, la base, la media, la star. Mi piace il fatto che ci sia la possibilità di dare l'abbonamento a degli amici, la possibilità di prendere i biglietti per altri amici nelle partite di cartello. Insomma ci sono tante piccole cose, tanti benefits, quindi una suddivisione dei pacchetti ben fatta. Per cui a livello marketing, a livello di strategia, la Juve ha lavorato bene, ma credo che anche l'anno scorso la Juventus abbia lavorato bene. Il fatto è che il prodotto finale che viene offerto al tifoso sia differente. E non possiamo ridurre il tutto a occasionali e non occasionali. Ragazzi, l'anno scorso vedere la Juve nel finale di stagione era frustrante. Frustrante. Cioè uno doveva perdersi una cena tra amici, mille cose per vedere la Juve. Io ragazzi me le sono viste tutte, ma c'è gente, ragazzi, che non la biasimo da quel punto di vista. Molto semplice. Per cui ottimo i dati incoraggianti, ottimo l'entusiasmo. Ora c'è ragazzi da tornare comunque a parlare di mercato. Perché Giuntoli sta facendo le cose, le sta facendo alla sua maniera e le sta facendo bene. Quando vi dicevo che serviva una testa pensante, senza troppi di atribi interne, all'interno della dirigenza, che serviva un'area sport forte, volta al cambiamento, volta al sostenere le idee dell'allenatore, ad ogni costa, a difendere quella scelta, perché è quello che dovrà fare Giuntoli, fino alla fine. Vediamo comunque che anche sul mercato si stanno muovendo tante cose, tante pedine. Ieri con Giovanni Albanese abbiamo parlato della complessità di questa operazione che coinvolge cinque operatori di mercato, le due squadre, Aston Villa e Juventus, due giocatori della Juventus e un giocatore dell'Aston Villa. Quindi in questo maxiscambio c'erano delle difficoltà in realtà iniziali, perché siamo i dettagli, come dice Giovanni, e Giovanni ha previsto nella settimana prossima, si spera, la potenziale chiusura di questa trattativa. Perché potenziale chiusura? Perché in questo momento c'è un'intesa di massima su tutto, si stanno risolvendo i dettagli. In particolare c'è a quanto pare un dettaglietto, mica da poco, sulla uscita di McKennie dalla Juventus, perché per il suo resto è stato fatto tutto. Sapete già che il signor Douglas sta con quella ragazza a Svizzera che gioca a Aston Villa. La madonna mi sono fatto, ma la ragazza sarà felice di rimanere lì a Birmingham a giocare con Aston Villa mentre il ragazzo sta a Torino? Punto di domanda. Mi è stato raccontato che nell'ambito del calcio femminile spesso si muovono i pacchetti di ragazze, perché in realtà ci sono delle coppie di ragazze che stanno insieme, quindi per favorire il trasferimento si vende la coppia. Cioè non si vende più una calciatrice, ma si vende anche la compagna della calciatrice. E quindi occhio che, non escluso anche che avvenga questa dinamica all'interno della Juventus, lo vedremo, lo vedremo. Credo che a quel punto, visto e considerati il tenore dei commenti anche ieri in chat, a Biella dove gioca la Juventus, stadio pieno. Pieno, pieno, pieno. Anche in Calabria hanno cambiato l'allenatore, per cui inizia anche lì un nuovo corso. A parte tutto, occhio anche a questa dinamica, però diciamo che tra Juventus e Stonvilla, quotazioni già perfette, ci siamo. Sulle quotazioni reciproche dei giocatori. C'è l'accordo totale, l'intesa con Douglas Lewis. C'è questo problemino di meccanica, sta un pochettino incaricando la situazione, ma non è nulla di grave. Si parla veramente di pochi soldi, non è una roba insormontabile. Siamo super in tempo, perché questa operazione la Stonvilla la vuol chiudere entro il 30 di giugno, quindi stiamo sereni, che secondo me si risolverà. Calma e gesso. Ho letto anche qualcuno che ha detto, ah, lunedì potrebbe arrivare a fare le visite mediche. Cazzo, quella là sta giocando la Coppa America. È molto più probabile che fa le visite lì in America, con la presenza di qualche dottore della Juventus, e poi ne farà una seconda parte quando rientrerà, però farà le visite mediche lì specializzate per, almeno, avere l'idoneità fisica, quell'idoneità che consente alla Juventus di accertarsi ovviamente delle condizioni fisiche del ragazzo e di fare di test approfonditi qualora escano delle situazioni un po' problematiche e poi di fermare il contratto. Almeno questo, per cui non ho preoccupazioni neanche da quel punto di vista. Per quanto riguarda Scesni, vediamo, secondo Pedulla c'è ancora un'insistenza della Juventus nel cercare una quadra con il Nasr, la squadra di Cristiano Ronaldo, e quindi vediamo un po' come si risolve anche questa vicenda. Qua si tratta di quotazioni legate al giocatore. Cioè la Juventus vorrebbe che la squadra araba pagasse almeno 5 milioni e 5 milioni quelli là non li vogliono sganciare. Cioè solo noi becchiamo gli arabi sturti, è una roba incredibile. Per il resto, ragazzi, che dire, Giuntoli ha venduto bene, perché al Cruzeiro, Caio Org, l'abbiamo venduto non bene, di più, di più, con la rivendita addirittura, al 30%, cioè tanta roba. Poi abbiamo, stiamo cedendo in questo momento sia a Healing sia a McKinney, capite bene che dal punto di vista delle quotazioni e delle uscite, credo che Giuntoli abbia effettivamente lavorato molto, molto, molto bene. Però vedremo che cosa succederà. Più o meno io sono abbastanza tranquillo su questa operazione di mercato che non si è ancora conclusa, non è ancora terminata, ma sta abbastanza sereno. Per quanto invece riguarda tutto il resto, ragazzi, c'è un'attenzione della Juventus su diversi giocatori, su Mason Greenwood, su Zirk, Zee, eccetera. La Juventus continuerà a monitorare tutte queste piste qua e poi, mano a mano, che emergono delle situazioni interessanti, a quel punto la Juventus agirà. Secondo Pedullà, invece, il primo obiettivo, dopo aver chiuso Douglas Lewis, sarà l'offerta a Copa Mainers. La Juventus, secondo me, per fare l'offerta a Copa Mainers, ha bisogno di un'uscita importante, dettagli mica da poco, e poi potrà proporre magari delle contropartite che interessano alla stessa Atalanta. Quindi, anche qua, sono tante le situazioni da scoprire. E poi, a breve, scopriremo anche la scelta di Rabiot. Rabiot rimane alla Juve, sì o no? Anche qua è da comprendere un po' tutto. Fatto sta che se Rabiot non dovesse accettare la Juventus, probabilmente andrà a valutare dei profili, come che Frenturam. Signori, questo è tutto. Io ho che dire. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti. iscrivetevi al canale, sempre fino alla fine. Forza Juve. Ciao belli.